L'uomo che ha deciso la gara in quel di Grosseto, ovvero Floriano, con un Euro goal al 37esimo del primo tempo, un goal importante sia per quanto riguarda la squadra, tre punti importanti, ma anche per il giocatore Floriano che alla fine è arrivato con un po' di aspettative e finalmente ti abbiamo visto esprimere quei goal di cui abbiamo visto anche i video. Sì, sono contento oltre al goal personale che fa sempre piacere quando si fa goal e soprattutto per i tre punti perché arriviamo da una sconfitta ma abbiamo dimostrato anche oggi che noi ci crediamo ancora e quindi continuiamo su questa strada. Magari sono veramente contento per i goal. In questo modulo che abbiamo visto oggi, questo 4-3-3, probabilmente ti sei anche un po' trovato più attuaggio rispetto magari alle altre volte, l'abbiamo visto proprio spaziare come ti piace fare a te, rientrare e provare il tiro. È probabilmente un modulo che Floriano in questo modulo si trova molto meglio. In effetti sono venuto per il modulo 4-3-3, poi non c'è stato molto, quando ho giocato non c'è mai stato questo modulo e quindi sono contento. Quindi speriamo di continuare su questa strada e continuiamo a fare punti. Tre punti diciamo importanti dopo la sconfitta di venerdì che diciamo così ha un po' allontanato il sogno del primo posto, anche se, mi avviso, alla fine fino all'ultimo ci si può credere, però veramente vi abbiamo visto con una determinazione diversa oggi, proprio con la voglia di far vedere di cos'è capace questo peso. Sì, magari io credo che, comunque io sono qua da due mesi e la squadra si allena sempre al 100% e credo che ha sempre dato il 100%. 100%, poi mai c'è un partito in cui si è un po' più in difficoltà e un partito in cui si è meno in difficoltà. Però credo che oggi abbia fatto una buona gara, abbiamo avuto qualche occasione anche in più per chiudere la partita. Insomma, quindi ci prendiamo questi tre punti e adesso pensiamo alla prossima partita.